Patek Philippe Aquanaut Stile, avventura e innovazione acquatica Nel mondo dell'alta orologeria, l'orologio da polso Aquanaut di Patek Philippe si distingue come un'icona di stile, avventura e innovazione. Questo eccezionale modello incarna la perfetta fusione tra eleganza e prestazioni, offrendo non solo una misurazione accurata del tempo, ma anche un'autentica dichiarazione di personalità e spirito esplorativo. Le radici dell'Aquanaut affondano nei turbolenti anni 90, quando i mercati finanziari crollarono e iniziò un periodo di forte recessione globale. In quel contesto, i giovani manifestarono il desiderio di un futuro diverso, puntando sull'innovazione tecnologica. Il passato venne dimenticato, e la forma pesante e formale non era più di tendenza tra i facoltosi di quegli anni. Patek Philippe compresse la necessità di rivoluzionare la sua offerta per il pubblico più giovane, distaccandosi dalle tradizioni. Nel 1997, Patek Philippe lanciò l'Aquanaut, che rappresentava una svolta rivoluzionaria per la Maison. La sua caratteristica più distintiva è l'uso del cinturino in gomma, una novità rivoluzionaria per l'alta orologeria. Questa scelta, che oggi diamo per scontata, suscitò scalpore al suo debutto. La sua realizzazione richiese oltre un anno di sviluppo e comprendeva più di 20 diverse molecole per garantire resistenza al sale, ai raggi UV e ai batteri. Il cinturino in gomma riprende la trama del quadrante, soprannominata Barretta di Cioccolato, un particolare unico della linea Aquanaut. Per ulteriore raffinatezza, gli indici arabi e le lancette sono realizzati in oro bianco e dotati di vernice luminescente, permettendo una rapida lettura al buio. Come suggerisce il nome, l'Aquanaut è stato progettato per resistere all'ambiente acquatico. L'Aquanaut impiega materiali di altissima qualità, tra cui l'acciaio inossidabile, la gomma e la ceramica, per garantire durabilità e prestazioni eccezionali. Questa combinazione di materiali conferisce all'Aquanaut la sua robustezza e il suo aspetto distintivo. La ceramica, in particolare, è ampiamente utilizzata per garantire che l'orologio mantenga la sua bellezza e la sua resistenza nel tempo. Celebrità e figure influenti spesso scelgono l'Aquanaut come accessorio per esprimere la loro personalità unica e il loro amore per l'avventura. L'introduzione dell'Aquanaut ha segnato un punto di svolta nell'industria degli orologi da polso. La sua attenzione per i dettagli e l'impegno per l'eccellenza hanno contribuito a consolidare il suo status di icona nell'ambito degli orologi di lusso. Non solo un orologio da polso, l'Aquanaut rappresenta un modo di vivere e di esplorare il mondo con stile e fiducia.